Gli strumenti per la crescita dell'impresa e lo sviluppo del territorio è il tema del forum promosso dall'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. L'obiettivo dell'iniziativa è diffondere la conoscenza di tutte le misure atte a supportare la crescita ed il rafforzamento delle imprese attraverso il ricorso alle diverse forme di finanziamento oggi esistenti. Ascoltiamo i protagonisti ai nostri microfoni. Abbiamo visto che le esperienze del passato, in particolar modo quando ci sono stati gli interventi a pioggia, parliamo della 488 341 215 che davano contributi a fondo perduto, abbiamo visto che non funzionavano. Perché? Perché sicuramente gli imprenditori non erano pronti ma probabilmente non erano pronti nemmeno i professionisti. Abbiamo faticosamente cercato di superare la china con dei corsi di aggiornamento, ci siamo professionalmente preparati e oggi siamo in grado di assistere il mondo imprenditoriale ad affrontare queste esperienze, alla rendicontazione ed evitare che questi fondi una volta che sono arrivati non debbano poi ritornare al mittente. Questo è avvenuto purtroppo per il passato, dobbiamo assolutamente evitarlo. E poi condivido assolutamente anche il pensiero degli industriali che dicono purtroppo tanta burocrazia ingessa l'Italia. Quindi noi chiediamo sicuramente interventi che tengono a snellire la burocrazia e rendere un pochino più omogeneo come tanti altri paesi, in particolar modo quelli sassoni. Ma guarda, tutti gli strumenti sono indispensabili per il rilancio del nostro territorio. Il problema che noi però dobbiamo affrontare prima ancora di questi strumenti è il problema della burocrazia. Io vengo dalla biennale della piccola che si è svolta a Venezia e secondo il Centro Studi Confindustria il PIL ha una contrazione del 4% per il suo problema della burocrazia. È chiaro che la pubblica amministrazione, sia quella locale sia quella centrale, dovrebbe fare uno sforzo maggiore per velocizzare le procedure di erogazione dei fondi sugli aiuti soprattutto in quanto chiaramente le imprese hanno bisogno di certezza nei tempi. Il ruolo del commercialista è fondamentale per conoscere gli incentivi e le modalità per le imprese di accedervi e di rendere quindi meno difficile il percorso burocratico. Certamente se andiamo a vedere la spesa certificata, la regione Campania al 31 dicembre 2014 era dal 54% della spesa e se vediamo la pianificazione europea nel suo complesso, quindi tutte le regioni medievali, purtroppo ci sono ancora 9 miliardi di euro da spendere e di contare nei prossimi 9 mesi. In buona sostanza le complicazioni italiane, chiamiamole le complicazioni burocratiche, il malfunzionamento della giustizia, è una filiera dell'inefficienza formidabile che trova una proprio razionalizzazione, una giustificazione proprio nel fenomeno, a mio modesto avviso, a mio sommesso avviso corruttivo. Allora oggi siamo qui a parlare di strumenti per agevolare le imprese. La prima cosa che lo Stato deve fare è creare le condizioni per lo svolgimento del business. Sta ripartendo la nuova programmazione 2014-2020, è importante che oltre le imprese avranno i finanziamenti anche i commercialisti insieme con le imprese, ci sono nuovi strumenti, riparte il contratto di sviluppo, la Sabatini, ci sono tantissime risorse, anche la regione è partita con una serie di interventi sull'internazionalizzazione, sui finanziamenti per i giovani, su uno strumento sull'accelerazione della spesa. Ci sono tante opportunità, ma le imprese hanno bisogno per creare sviluppo di tempi certi. Oggi abbiamo raccolto intorno al tavolo tutti quelli che sono gli attori coinvolti nell'assistenza alle imprese e nell'assistenza ai professionisti. Oggi abbiamo la presenza di dirigenti del Ministero, Regione, Invitalia, Sviluppo Campania. Abbiamo la presenza anche dei rappresentanti dell'ICI, dell'Istituto per il Commercio S, perché riteniamo che l'apertura ai mercati esteri e quindi quelle che sono le misure agevolative per le imprese che vogliono affacciarsi al mercato estero sia fondamentale per lo sviluppo del territorio.